una selezione degli elementi più qualificati della cinematografia internazionale una produzione ineguagliabile per ambienti effetti e costumi realizzata sulla scorta di testi storici vi offriranno quanto prima su questo schermo gli amori di ercole un eccezionale film in cinema scope e technicolor e il produttore alberto manca ha realizzato per voi con la regia sicura e accurata di carlo ludovico bragaglia ercole figlio di giove vittorioso nelle più spettacolari imprese impossibili ad esseri umani impersonato dall'attore mickey argitei dal fisico scultorio e possente in una interpretazione calda misurata e convincente jane mansfield la bionda e valente attrice della 20th century fox una delle donne più belle degli schermi internazionali nel doppio ruolo di Dejanira e di Ippolita ha la possibilità di poter offrire tutta la gamma delle sue qualità di attrice e del suo fascino femminile massimo serato un grande attore italiano che impersona impareggiabilmente la complessa e difficile figura di lico dà vita a un personaggio che rimarrà a lungo impresso nella vostra mente attori bravi ed efficaci a voi simpaticamente noti ecco rossella como l'ancella pedele di Dejanira tina gloriani grande promessa del nostro cinema nella parte della regina delle amazzoni arturo bragaglia caratterista saldo e incisivo nel ruolo di yolao rené darì l'indimenticabile interprete di grisby accanto a jean gaben e giulio donini moira orfei andrea scotti andrea aureli sandrin e tanti e tanti altri che avete ammirato in numerosi film gli amori di ercole vi farà ammirare un imponente e fantastico essere mitologico la terribile idra della gola degli imperi che per dimensioni e verità di movimenti costituisce la prima realizzazione del genere il gigantesco mostro dell'antro della morte la spettacolosa e dantesca valle degli alberi umani disperatamente invocanti il ritorno alla vita la ricostruzione della città di e calia con le sue mura insidiose e possenti e cento altre trovate spettacolari e seducenti gli amori di ercole è una coproduzione grandi schermi italiani contact organizzazione parigi realizzato negli stabilimenti di cine città distribuito dalla inter film gli amori di ercole sarà dato prossimamente in questo locale